Ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del tagliagole, oggi ragazzi primo Victorinox del parchetto del tagliagole Victorinox Hunter Pro Alux, quello con le guancette in alluminio che andiamo a vedere insieme Eccolo qui ragazzi Victorinox Hunter Pro Alux, ragazzi un coltello grande, un bel coltello, un bel folder Un folder da outdoor, sicuramente non è una misura edisi ragazzi, bello grande Il coltello è costruito veramente bene e dà proprio solidità in mano ragazzi A differenza del suo fratellastro con le guancette in plastica che proprio non mi piace Poi vi faccio vedere anche perché ragazzi Hunter Pro Alux che esce nell'ottobre del 2018 Quindi un prodotto comunque non nuovissimo ma neanche datato ragazzi Non è proprio un nonno anche se comunque ragazzi la costruzione ancora con i rivetti Ma a me non convince tantissimo il fatto di non poter aprire e regolare il coltello ragazzi Andiamo un attimino alle specifiche di questo Hunter Pro Alux Il coltello nella sua interezza misura 23.3 cm E ha questa lama ragazzi, eccola qua Con il marchio Victorinox Di 9.8 cm Praticamente ragazzi vedete quasi tutta tagliente Questa cosa l'ha riscontrata l'amico Vito Turri ragazzi Secondo me il maggiore esperto Almeno che conosco io Italiano di Victorinox Che mi ha dato anche parecchie informazioni e info Molto utili su questi coltelli ragazzi L'altra volta mi sono dimenticato Poi vi linko la sua pagina YouTube Nei commenti Così potete andare a farci un giro Se volete sentire parlare qualcuno dei Victorinox Ragazzi sentite Vito che sicuramente ne sa 3000 volte più di me Dicevo come mi sono confrontato con l'amico Vito Il tagliente quando arriva non è perfettamente a rasoio Quindi va un attimino ripreso Però comunque ragazzi Si riprende tranquillamente col kit Lansky a bacchette Proprio un paio di passatine per renderlo bello a rasoio La lama ha uno spessore Eccola lì Di 3 mm Ragazzi il coltello è bello Pesantuccio Pesantuccio Pesa 175 grammi Coltello come vedete ragazzi Attenzione Coltello Alox Eccolo qua Con guancette in alluminio Ovviamente fissate con i rivetti Al corpo centrale del coltello Che invece è in acciaio Vedete le cartelle in acciaio Ragazzi le vedete Eccole lì Non alleggerite Quindi il coltello ha il suo bel peso Ragazzi si sente bene in mano Movimento di chiusura Il back lock Molto sicuro ragazzi E l'apertura è mediante il foro Con il pollice Versioni dell'Unter Pro Ce ne sono tre ragazzi Unter Pro con guancette in alluminio Questo che stiamo vedendo Guancette in legno E guancette in plastica A proposito delle guancette in plastica Ecco qua Che lo vediamo subito ragazzi Eccolo qua Vi faccio anche capire Perché a me non piace proprio tanto Per quale motivo Perché Adesso non so se lo sentite Vediamo No è impossibile Da farvelo sentire Però c'è un leggero Scricchiolio Un leggero movimento Delle guancette in plastica Ragazzi Che tra l'altro Hanno un aspetto Abbastanza cheap Ragazzi Abbastanza cheap Davvero Non mi convince tantissimo Ma davvero Questa manicatura Non mi aggrada Parecchio Soprattutto per questo fatto Del fatto che Si muovono Ma proprio leggermente Ragazzi Però le cartelle Le guancette Ragazzi Sono fissate Al corpo Del coltello Proprio ad incastro Sui perni Su questi perni Ragazzi Ok Quindi ha degli incasti Le guancette Si incastrano Tranquillamente Lì Ve lo faccio vedere Aperto Ecco una foto Come avete visto Ragazzi Come avete visto ragazzi Guancette Solamente ad incastro E ripeto In mano Questo leggero Scricchiolio Non mi piace Se poi andate Se poi andate a fare Forza Sul coltello Ragazzi Questo spigolo Della plastica Questo Questo spigolo Questo qua Da proprio fastidio Alla mano Ragazzi Vi segna La mano Secondo me È un po' Studiato Grossolano Questo coltello Davvero grossolano Coltello Nella versione Con le guancette In plastica Che vedremo Nel dettaglio Poi comunque Senza clip Ragazzi E senza foro Per il laccetto Nella versione vecchia Nella versione nuova Ha il foro Per il laccetto Ma non la clip Viene sempre Fornito Con il suo Bel astuccino Eccolo qua Lo mettete via Lo attaccate In cintura E andate Immediatamente A conquistare Le ragazze Torniamo Al nostro Invece Hunter Pro Alox Ragazzi Che come vedete A differenza Del fratellastro Con le guancette In plastica Ha la clip Clip ragazzi Che è un pochino Morbida Un pochino morbida Anche l'amico Vito è d'accordo Secondo me C'è il rischio Che un giorno O l'altro Ve la trovate Appesa Ragazzi Perché secondo me Forzandola Un po' Secondo me Si spacca Comunque Clip studiata bene Il coltello È a scompare Studiata bene Nel senso Non del materiale L'avrei fatta Un pochino più spessa Ragazzi Però studiata bene Nel senso Che è un tipo di clip Che mi piace parecchio Perché è a scomparse Una volta che la infilate Nei pantaloni Ragazzi Il coltello Scompare Completamente Clip solamente Per destrorsi Vi faccio vedere L'incastro Se riusciamo a metterlo a fuoco Mai nella vita Eccolo lì L'incastro della clip Lo vedete L'avete visto Eccolo lì Foro per il laccetto Come abbiamo messo il nostro Laccettino Ragazzi Qui non è ovviamente Previsto Il foderino Proprio perché Con la clip È considerato un coltello Da mettere In tasca E non In cintura Ragazzi Una cosa che non vi ho detto È l'acciaio Sull'Hunter Pro Allox L'acciaio scelto Per la lama È stato L'141-16 È un acciaio Paragonabile A 440B Voi mi direte Ma che acciaio è Ragazzi È già un passo in avanti Visto che solitamente La Victorinos Equipaggia Quasi tutti i suoi coltelli Con l'141-10 Che è più simile Al 420 Quindi da un 420 A un 440B Comunque Un passettino in avanti Certo che Essendo Vivendo Nell'era Dei super acciai Ragazzi Dove ogni Tre giorni Esce un acciaio Più performante Parlare di 440B Lo fa sembrare Un acciaio Un po' economico Ragazzi Il coltello L'ho usato L'ho usato per mangiare Ragazzi Vedete A parte qualche sfrisino Sulla lama Però Non c'è proprio niente Non ha proprio niente Su questa finitura opaca Che tra l'altro È molto bella E si rovina davvero poco Ripeto Non ci ho fatto Lavori gravosi Non ci ho tagliato la legna L'ho usato per mangiare L'ho portato un paio di volte In escursione Non l'ho usato tantissimo Assolutamente Però Ha fatto quello che doveva fare Il salamino Ragazzi Lo taglia Veramente Veramente Bene Veramente Veramente Bene Il suo fratellastro In plastica L'ho usato Un po' di più Ragazzi Infatti L'ho già riaffilato Un paio di volte E comunque La lama Come potete vedere A parte la mia affilatura Eccola lì Che la vedete Non ha assolutamente Nulla Ragazzi Nella versione In alluminio Le guancette Sapete benissimo Che a me Le manicature In alluminio Non piacciono Però Devo dire che Non hanno Un brutto grip Ragazzi Sono leggerissimamente Scivolose Come tutto L'alluminio Ragazzi Però Non Non dà danno Diciamo Nel senso Lo tenete Ancora Bene Bene In mano Un'altra cosa Sulla lama Come vedete Il controfilo Superiore Che serve Per aumentare La penetrazione E la Sua disponibilità Sui lavori Di punta La sua efficienza Che disponibilità Ragazzi Efficienza Sui lavori Di punta È ovviamente Un controfilo Quindi non affilato Con una bella Bisellatura Bassa Ragazzi A dimensione Ovviamente Adesso che sto facendo La recensione L'endura Ce l'ho nel cassetto In cucina Siamo più o meno Come un'endura Spyderco Ragazzi Un coltello Ripeto Che non ho usato Tantissimo Quindi Sulla sua solidità Posso solo dirvi Quello che Trasmette Preso In mano Ragazzi Un coltello Che per Uscite Outdoor Tranquille Un coltello Che va Sicuramente Benissimo Acciaio Un po' Vecchiotto Sicuramente Lo dovrete Riaffilare Ragazzi Non è proprio Un acciaio Performante Però ripeto Per quello Che l'ho usato Io Si è comportato Bene Quindi Un prodotto Che Se vi piacciono Victorino Victorino Non può Assolutamente Mancare Un prodotto Che ha Il suo Prezzo Perché Questo coltello Costa Intorno Ai 100 euro Poi lo potete Trovare Anche In offerta Ragazzi Ma più o meno Siamo a 100 euro Secondo me Per un coltello Che nel 2021 Risulta Un pochino Superato Anche se Costruito Bene Andiamo Alle conclusioni Finali Victorino Hunter Pro Alox Ragazzi Un coltello Con una Costruzione Un po' Vecchiotta A me I rivetti Non piacciono Tantissimo Sui coltelli Come vi ho detto Prima Perché Non li posso Aprire Per pulirli E tantomeno Regolarli Sicuramente Un coltello Grande Ragazzi Un coltello Che ha il suo peso E in mano Restituisce Robustezza Per quello Che l'ho provato Io Che è stato Solamente Sul cibo E poco Altro Ragazzi Un coltello Che sicuramente Fa il suo Un coltello Costruito bene Che per le vostre Gite Outdoor Posso anche Consigliarvi Ovviamente Per lavori Pesanti Ragazzi Sarebbe da testare Perché Ovviamente Ogni coltello Va provato Prima di dire Cosa può fare Dal Victorinox Hunter Pro Alox Dal parchetto Del tagliagole È tutto Buona giornata E ciao